buongiorno bentrovati questo è mettiamoci la voce io sono maria grazia io sono francesco e io sono sandro e io sono valentina e questo è mettiamoci la polemica no perché spieghiamo chi non ci conosce avrà sentito una strana interferenza all'inizio no è la sigletta che noi chiamiamo la sigla dell'angolino della polemica e siamo partiti direttamente con l'angolino della polemica oggi grazie valentina perché il titolo di questo episodio per come ce lo siamo appuntato noi era a che punto siamo con la lettura espressiva contestualizziamo contestualizziamo il macro argomento è i format di insegnamento della lettura espressiva il focus nell'insegnamento della lettura espressiva nell'utilizzo della lettura ecco non è come dire tutti bene in famiglia più o meno più o meno considerando che quando abbiamo deciso non quando abbiamo iniziato a lavorarci ma quando abbiamo deciso di portare questa cosa al di fuori era il 2017 e di lettura espressiva si parlava veramente poco se ne parlava non è che fosse qualcosa di sconosciuto al mondo considerando che considerando che già la 2017 voi avevate qualche almeno una decina d'anni abbondante di esperienza solo nella didattica di lettura espressiva quindi oltre tutte le altre competenze e attività didattica quando non ci hanno fatto la lettura espressiva 10 anni al 2017 quindi ora 15 abbondanti quindi perché perché ho fatto questo preambolo perché nel 2017 quando abbiamo deciso di creare il progetto per portare online un osservatorio sulla lettura espressiva e sulle tecniche di lettura espressiva che chiaramente implicano la voce va da sé se ne parlava veramente poco e il materiale che si trovava per la maggior parte era riguardanti riguardante l'attività di professionisti in ambito della parola detta quindi attori per la maggior parte o doppi attori che portavano il loro know-how di performer all'interno dell'attività di lettura a voce alta poi al 2023 quindi ad adesso invece sembra essere cambiato un pochino il punto di vista e la lettura espressiva viene molto più affrontata dal punto di vista dall'aspetto dal versante della sua finalità e funzione sociale pubblica quindi si è passati dall'ambito performativo in alcuni... parlando di lettura espressiva non parlo di audiolibri non parlo di podcast quindi parlo proprio di lettura espressiva da un contesto performativo a un contesto socio-culturale. Sì 2023 però non puoi credo tu non possa staccare da questo il versante lettura espressiva come... scusate sto per dire una cosa molto antipatica... promessa di lavoro nel fatidico mercato audio attuale perché non puoi distaccare... questa è la polemica della polemica... eh no non giuro non vuole essere polemica però in questo momento lettura espressiva diventa sinonimo di podcast di audiolibro... è vero ma in ambito podcast e audiolibri diciamo che forse è il primo settore dove non si parla di lettura espressiva nel senso che si parla... cioè le keyword di riferimento tutto quello che è la ricerca e la richiesta è voglio leggere gli audiolibri voglio guadagnare leggendo audiolibri voglio fare podcast voglio guadagnare facendo podcast. Grazie Francesca... ciao tu che ti stai... ci stai guardando tu sai... per cui l'ambito professionale all'interno del quale la lettura espressiva si esplica in maniera preponderante è il primo dove non si parla di lettura espressiva mentre si parla tantissimo per fortuna e grazie di lettura espressiva in ambito di miglioramento delle... della scolarizzazione miglioramento dell'apprendimento socialità momenti di aggregazione e momenti di sollievo per persone che in quel momento non hanno la possibilità di essere a casa quindi rsa ospedali carceri eccetera per cui io quello che sto vedendo è che bisogna un attimo fare il punto ed è da qui il titolo della puntata di oggi su cosa si intende e dove si va parlando di lettura espressiva adesso io vado la sveglia quindi è una puntata polemica ma non vuole essere polemica fino a se stessa però ampio la sfera insomma di bisogna mettere un po di ordine quella quella questione perché si è passati da appunto un periodo in cui di lettura espressiva non se ne parla assolutamente assolutamente e ad adesso come diceva appunto Valentina magari millantare che con la lettura voce alta si potrà spalancare un lavoro che può anche essere eh ci mancherebbe no 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 è quella la cosa brutta è che no perché per perché non si può dire non si può proprio formalmente dire che con la lettura espressiva si può guadagnare si può dire però è contro etico dire che infatti cosa dicono infatti cosa si sente cosa si legge dire facendo audiolibri facendo podcast facendo vatte la pesca quindi con l'applicazione della lettura parlando del formato e non del come si si lavora a quel formato se mi consenti è un po' forse un discorso che abbiamo già anche fatto con Francia e MG è un po' il discorso di io vado ad una scuola professionale e non esco da lì che ho già il lavoro in mano però ho una professione quindi il concetto è quello un po' credo analogo a tutte le formazioni tranne alcune discutibili formazioni per cui se entri in quella scuola esci che sei il segretario il designer di bla 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 questa è vera polemica passata sotto il ponte però il discorso di professionalizzarsi in qualcosa quindi intraprendere un percorso formativo finalizzato a configurarti come professionista in tal ambito non è sinonimo di esci da lì e hai un lavoro in mano quindi questo la sai solo fare sai fare però quello sì e d'altronde i percorsi formativi tendenzialmente sono quelli non è come dice uno sono laureato in ingegneria allora devo fare l'ingegnere voglio fare l'ingegnere no cioè vieni formato come ingegnere hai tutte le carte in regola devi essere scritto all'ordine quindi cioè proprio non si scherza e poi dopo fare il tuo mercato del lavoro pronto è un mercato esatto domanda offerta nel momento in cui invece si dice allora fai questo perché così allora lavorerai e attenzione cioè meglio meglio essere un po' diffidenti su questo perché è una questione di legittima difesa non peraltro ma allora inserirei l'angolino della polemica nell'angolone della polemica oggi è un'inserzione di polemiche cosa abbiamo mangiato e direi non lo so è cinese pesante un pochino pesante era tanto non è che fosse tanto pesante ma era tanto era troppo interessante questa conversazione sì e no dicevo più che polemica cioè andiamo anche a capirle certe cose si può insegnare a leggere a voce alta ve lo chiedo col punto interrogativo bello mercato a mio avviso si può si deve però ecco ma ma si può accompagnare a migliorare attenzione non è che dici va bene ok adesso ho la tecnica era questo l'angolino della polemica no perché fra le altre cose che vengono un po' anche millantate fatemi dire è il ti do la formula allora ci sono un insieme di regole di tecnica che noi siamo i primi a passare però restate con noi per i cinque segreti per leggere bravo è questo a cui volevo arrivare mi hai letto del pensiero vuoi conoscere i cinque segreti per leggere a voce alta correttamente rimani con noi che lo diciamo alla fine dell'episodio e quindi sì in una certa misura ci sta no c'è un ambito proprio io la chiamo tecnica per capirci ma insomma tecnica forse anche un termine un po limitativo ma tutta una serie di competenze che servono se messe correttamente in pratica e poi c'è invece un'altra sfera che è quella appunto francesco ha usato prima il termine di accompagnare che è tutto ciò che riguarda la capacità di chi guida non solo di trasmettere le nozioni ma anche di accompagnare soprattutto visto che poi il focus è proprio la voce non del nostro discorso in generale ma anche in questa puntata accompagnarlo accompagnarla che noia sta cosa di dover usare sempre i due geni non possiamo parlare come abbiamo sempre parlato senza offendere nessuno io l'asterisco non lo metto e accompagnarlo a scoprire a scoprire le potenzialità della propria voce le potenzialità espressive non che si debbano fare le caprioni qui vi faccio una domanda in merito a quello che hai appena detto cercherò di tirarla fuori dalla testa dal cilindro che ho in testa perché sia comprensibile hai tutto il tempo che vuoi non esattamente forse facciamo focus sull'oggetto lettura espressiva quando parliamo di insegnamento e e forse dovremmo parlare di arte della vocalità nella narrazione perché leggere ad alta voce è un'arte e come tutte le arti tu non insegna ad una persona a dipingere in quel modo io ti insegno le arti pittoriche non ti insegno ad essere un pittore sta a te l'applicazione di quell'arte allo stesso modo nella lettura espressiva non si insegna io non ti insegno un metodo di lettura per cui esci da lì che leggi come me che te l'ho insegnato io ti insegno a usare la voce ti insegno a ragionare sui sulla musicalità del narrato del parlato ti insegno le regole della dizione dell'orto e pietro eccetera infatti c'è la grossa distinzione secondo caso che hai detto si parla di istruzione l'istruzione cioè il libretto delle istruzioni come si fa devo montare questo il manuale il manuale compri una lavatrice c'è manuale dell'istruzione un registratore eccetera nell'educazione è molto più complesso perché non si tratta di lavorare su un oggetto fisico ma su un soggetto umano che ha una complessità a partire dalla prima puntata cioè figuriamoci poi quando si espande e quindi puoi semplicemente cercare di accompagnare adesso adesso è da un po di decenni che si usa questo termine facilitare no il facilitatore in realtà mi viene un po da sorridere ma senza fare polemiche cioè se ne parlava già nell'antica grecia c'è i tempi di platone di aristotele mentre adesso c'è dei psicologi che no perché è facilitato facilitiamo va bene se è più facile per te va bene cioè non va bene ma chiuso la cosa se ti facilita la vita se ti facilita è brava esatto se ti facilita la vita buon per te comunque il discorso è che lavoriamo su su un essere umano e per cui non possiamo che accogliere la sua immensa complessità per cui noi insegnanti cioè quelli che insegnano mettono un segno in questa persona non possiamo fare altro che con le nostre competenze con le nostre esperienze con la nostra sensibilità con le nostre predisposizioni di dirigere già un termine un po rigido però di di accompagnarsi di aiutare a facilitare forse a facilitare esatto e allora sì però qua state così state svegliando il can che dorme dell'allenatore abbiamo un allenatore qui in giù c'è un allenatore in sala? no è arrivato eccolo di base se voi fate un parallelo basta fare un parallelo anche abbastanza grossolano con l'ambito sportivo e con l'ambito dell'insegnamento e dell'allenamento sportivo per arrivare a quello che potrebbe anche essere un discorso legato alla lettura espressiva ovvero a il calciatore che arriva in nazionale o addirittura che vince il pallone d'oro e a quello che gioca in prima categoria o o anche meno vengono insegnate le stesse tecniche di base non è che si insegnano due sport diversi poi chiaramente uno dalle propensioni personali dell'atleta e due da tutta una serie di concause di fattori di contesto di altre di mille variabili quindi succede che qualcuno quelle tecniche le mette in pratica in maniera sublime qualcun altro rimane a giocare sui campi alla domenica perché si diverte a farlo però questo non inficia il fatto che venga insegnato lo stesso sport attraverso le stesse tecniche all'uno e all'altro di partenza quindi anche noi se ragioniamo sul discorso lettura espressiva verissimo che è un'arte ma anche nelle arti si insegnano le tecniche le tecniche di base per cui come si usa un pennello si 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 no ma non intendevo dire che l'arte non avesse tecnico non avesse struttura assolutamente etimologicamente deriva da quello poi si può tranquillamente immaginare l'artista come quello che in maniera totalmente estemporanea in maniera totalmente naturale spontanea senza sovrastrutture un'immagine che viene dal romanticismo questo esatto ma non è così non è così non è così per cui Picasso no che diceva ci ho messo una vita a imparare a disegnare come un bambino esatto l'idea è proprio quella cioè le tecniche ci sono ed è giusto ed è corretto che vengano insegnate e che vengano insegnate nel modo più funzionale possibile e meno come si potrebbe dire senza fare troppa polemica più etico possibile mettiamola così stavo per dire onesto ecologico anche no è davvero nel senso no 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 è vero cioè poi è naturale che ognuno fa esatto fa quello che crede che può che vuole però è anche vero che un formatore un insegnante è anche quella persona che è in grado di passare il contenuto cucendolo è andato è andato abbiamo perso l'insegnante abbiamo perso l'allenatore è anche vero che l'insegnante è quella persona capace competente che riesce a capire qual è il metodo di apprendimento del discente per passargli nella maniera più efficace brava effettivamente questo proprio denota l'attenzione al fine ultimo che è la persona che ha di fronte invece ahimè a volte capita che determinati formatori determinati insegnanti chi ha la responsabilità in realtà non si è proiettato sull'altro ma si è proiettato su se stesso e quindi il modo di insegnare è ti faccio vedere come si fa ma cosa vuol dire? no questo in alcuni ambiti saper fare non significa saper insegnare anche in alcuni ambiti è proprio non ti dico la regola ma insomma è molto è certo c'è tutta la polemica delle masterclass c'è gente che magari sia nell'ambito del teatro sia nell'ambito della musica parlavo appunto con una pianista classica la quale mi diceva ha studiato tantissimi anni con un maestro con determinato percorso ho fatto una masterclass mi ha smontato tutto nel giro di due ore due giorni praticamente io per un paio d'anni ho smesso di suonare mi dicevo vabbè non ho capito niente cioè pensa che danni con questo non voglio dire che ce l'ho con le masterclass assolutamente sia chiaro però è anche vero che l'attenzione deve essere sempre sulla persona a cui ci si rivolge nella formazione se no è esibizione vero vero prima che mi avvelenassero perché stavo diventando troppo polemico per cui i poteri forti sono tornato non volevano che ve lo dicessi chi? non si sa però non volevano mettila perché sennò ti fanno secco prima della fine dell'episodio non ce lo dicono comunque detto questo volevo solo riportare il discorso sul che abbiamo fatto cercando di ritirare le fila per il semplice motivo che in questo momento il termine e l'ambito lettura espressiva va a ricadere su differenti settori segmenti dove viene utilizzato in maniera completamente differente e diversa per cui vorrei fare un punto per questo 2023 dicendo che all'interno ad esempio delle formazioni lato podcast non viene mai identificata la lettura espressiva come un valore sì viene magari portato l'attore che ti spiega come si legge o come si interpreta un testo ma quello non è lettura espressiva scusate e poi oltretutto non è detto che un attore sia anche un lettore a voce alta nel senso quello è un riferimento su l'importanza del saper interpretare un testo va benissimo il lavoro sulla lettura è un lavoro un po' più profondo è un lavoro un po' più lungo rispetto a a un'attività spot poi ci sta assolutamente che questo crei l'interesse e la voglia di formarsi e di migliorare però quindi in ambito professionale al momento ancora non vedo lettura espressiva come una keyword come una parola chiave che venga utilizzata ricercata mentre vedo molto di più questa dinamica per chi vuole leggere per gli altri per cui volontari che vogliono fare donatori di voce e libro parlato perché allora lì la keyword è voglio imparare a leggere meglio perché la loro focus è migliorare l'attività che già stanno facendo perché è una loro volontà quella di trasferire del testo in maniera più efficace a chi li ascolterà guarda forse mi si forma questo pensiero forse uno dei una delle tante componenti di questo di questo momento potrebbe anche essere il fatto che c'è il faro è molto puntato sul microfono e poco sulla voce non sull'individuo sulla voce quindi sullo strumento che mi viene da dire un po' al momento gioia e dolore di qualsiasi disciplina che viva per circostanza o per fortuna o per sfortuna un momento di attenzione particolare in questo momento la narrazione audio è un pochino sotto il riflettore e tutto diventa un enorme pastone perché si mescolano tante cose non si capiscono le differenze le discipline non vengono comprese a fondo tutto ciò che prima era sottovalutato nella relazione senza il microfono viene comunque trascurato e sottovalutato nella relazione davanti al microfono quindi l'oggetto è l'oggetto d'attenzione è il contenuto quindi lo scritto la copertina figa il microfono bello il microfono bello e l'attore famoso che dà la voce e la masterclass di quelle poco efficaci di cui parlavi prima non quelle belle tutto al fine di sfruttare al massimo la luce che in questo momento sta illuminando questa cosa io mi immagino un scusami finisco il mondo del volontariato è sempre stato fuori dai riflettori da questo punto di vista ha continuato ad esserlo e ci sono stati dei lavori pazzeschi che sono stati fatti negli ultimi anni prova ne è tutto il lavoro che sta facendo Federico Battini con Love che sta tirando fuori delle cose meravigliose diciamolo bene lettura ad alta voce e stiamo parlando di un contesto in cui non si parla di guadagno tutto volontariato eccetera eccetera in tutta Italia anzi invitiamo chi volesse contattare al sito di lettura ad alta voce c'è anche il link alla sezione più vicina se volete per associarsi per associarsi e per leggere la voce alta quindi purtroppo faccio un paragone magari infelice con quello che è stato una decina di anni fa il mondo dello yoga che io conoscevo all'epoca da vicino perché ho diverse cari amiche che sono insegnanti yoga e come è stato fino a 5-6 anni fa per il mondo della meditazione che improvvisamente tutto era mindful tutto era yoga ora tutto è qualcosa di simile al microfono in maniera impropria e l'oggetto che prima era il lavoro su se stessi la propria eccezione l'interocezione la capacità di sviluppare un'ottica equanime sulla vita in questo caso l'utilizzo della voce anche come strumento di consapevolezza come diciamo spesso e volentieri è dato quasi per scontato la voce poi ahimè è veramente una cosa che è data per scontata in qualsiasi settore purtroppo poi ci sono anche le mode e ci rendiamo conto ogni formazione e ci rendiamo conto ogni formazione pensate semplicemente a quanto magari si sta attenti al taglio di capelli alla linea come mi veste e alla voce che lo usiamo tutti i giorni ed è il nostro biglietto da visita dal punto di vista sonoro è sicuramente il momento diciamo comunicativo assolutamente più importante quotidiano però la diamo per scontato ma sì perché non c'è non c'è un'educazione su questo e non c'è nemmeno perché a volte non è l'educazione a volte è è la come dire è una cosa importante è una cosa importante tu dicevi l'attenzione al look non è che ce l'ha insegnata qualcuno ma l'abitudine e anche questo ogni tanto crea danni eh sì come abbiamo visto con Giulia ah sì recuperate l'abito l'abito fa il monaco con Giulia Celi perché di questo abbiamo parlato ogni tanto fa danni anche quello eh sì però è vero che sulla consapevolezza sulla voce invece è qualcosa che non difficilmente insomma ci invitano a coltivare ma a coltivare a esserne consapevoli prima che a coltivarne eh sì il saper essere prima che il saper fare quindi tornando a che punto siamo con la lettura espressiva secondo me in realtà c'è un enorme potenziale in questo momento storico perché quantomeno si parla di lettura espressiva forse ancora non è chiaro non è ben messo a fuoco l'oggetto lettura espressiva e soprattutto i benefici della lettura espressiva in quanti ambiti si possano applicare è quello soprattutto credo eh sì manca l'idea insomma lettura espressiva si pensa appunto l'attore no in una sala che ci legge le poesie insomma non è solo quello non è solo quello assolutamente e ne abbiamo credo anche disquisito molte volte rispetto proprio agli ambiti applicativi no non apriamo altre polemiche no ma voleva essere una tavolina rotonda e lo è davvero e lo è davvero si vede anche in video sulla lettura espressiva e a che punto siamo l'abbiamo intesa un po' così siamo in realtà a un ottimo punto vogliamo ci sentiamo proprio di portare il nostro contributo a a dire la nostra gli ambasciatori e poi a confrontarci e anzi infatti invitiamo chi ci ascolta anche di dire la vostra info chiocciola mettiamoci la voce punto it e se volete cercate su google lettura espressiva così alziamo l'algoritmo di ricerca dai ci sentiamo presto ciao e a presto ciao grazie 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 ciao ciao